Ebbene sì, i Blenderiani esistono, sono una realtà. Grazie mille per i commenti, mi avete scritto su Twitter, nei commenti qua su YouTube ovviamente. Ho scoperto che ci sono community su Facebook, su Telegram e probabilmente anche su altri miliardi di canali come Discord, Slack e soprattutto Blender.it, Blender Italia è ancora il centro della comunità di Blender italiana. L'idea è di continuare a fare video e cercare di raggiungere sempre più persone possibili. Mi è molto colpito l'esistenza di community incentrate sul Blender Game Engine. A quanto pare è una cosa ancora molto in voga, persone usano il Blender Game Engine ed è sorprendente considerando la limitata quantità di energie e risorse che i core developers di Blender possono investire al momento nello sviluppo di questa parte del progetto. È considerato anche il futuro abbastanza incerto del Game Engine in Blender 2.8. Per le persone che sono interessate e che utilizzano il Game Engine, sapete dell'esistenza del progetto AppBG? U-P-B-G-E È un fork amichevole di Blender con l'obiettivo di sviluppare il Blender Game Engine il più velocemente possibile, quindi in modo slegato dal corrente sistema di sviluppo di Blender con il ciclo delle release che è 2, 3, 4 release all'anno, mentre con questo AppBG l'idea è di iterare ogni mese con nuove versioni e nuovi aggiornamenti per sviluppare più in fretta, integrare nuove tecnologie, rilasciare poi il codice migliorato all'interno delle release ufficiali di Blender. AppBG è un suo sito web www.appbge.org Dateci un'occhiata. Ok, allora adesso vi illustro il piano di azione per i prossimi video. Di che cosa andremo a parlare? Ho pensato a tre argomenti, uno è Blender stesso, il sviluppo di Blender, Blender 2.8 in particolare, la nuova mega release che succederà durante quest'anno, speriamo. Blender 2.8 è un progetto in corso già da diversi mesi, si concentra soprattutto su viewport e workflow e ci sono diversi articoli, ci sono già molti contenuti, esiste già una versione del 2.8, una branch che si può scaricare e compilare in locale per vedere un po' come sarà, al momento molte cose non funzionano quindi è assolutamente da non utilizzare in produzione però è molto bello seguire il lavoro in corso degli sviluppatori e testare alcune cose. Infine per quanto riguarda Blender 2.8, qualche tempo fa abbiamo rilasciato un video sul canale di YouTube Blender Developers che parla del Blender 2.8 Usability Workflow Workshop, un workshop che c'è stato qui ad Amsterdam al Blender Institute con più di una dozzina di sviluppatori e utenti di Blender, incentrato sul definire le linee guida per lo sviluppo di Blender 2.8 per i diversi flussi di lavoro che Blender dovrà supportare in futuro. Questo mio documentario è online, è in inglese, ci sono i sottotitoli in inglese, Pablo nel suo vlog ha chiesto alla community spagnola se qualcuno era interessato a tradurre i sottotitoli e magicamente sono comparsi dei sottotitoli in spagnolo e in spagnolo per Sud America. Se qualcuno è interessato a tradurre i sottotitoli in italiano potete semplicemente andare sul video e fare il submit di una versione tradotta dei sottotitoli perché è aperto al pubblico quindi faccio una mini review e poi li posso pubblicare. Un altro argomento di cui parlerò nei prossimi video sono le novità nella community mi sembra che ci sia abbastanza interesse per quello, cose di prima mano soprattutto nei canali ufficiali di Blender per esempio recentemente è stato pubblicato un articolo su Blender.org di come alcune grandi organizzazioni o studi o aziende supportino finanziariamente Blender permettendo a Blender Institute di assumere a tempo pieno degli sviluppatori per lavorare su diverse aree di Blender come la vista 3D, la pipeline, integrazione nella pipeline, l'Alembic, tecnologie specifiche ma di cui tutta la community in realtà potrà poi trarre benefici. E infine ho pensato di fare un'altra serie di video che parla della vita al Blender Institute che è il posto dove lavoro, parlando di progetti attuali per esempio il film a cui stiamo lavorando al momento Agent 327, le novità sul Blender Cloud che è l'infrastruttura con la quale condividiamo il progresso del lavoro che facciamo sul film e mettiamo a disposizione asset training, servizi, è la nostra piattaforma di crowdfunding in pratica e la teniamo sempre aggiornata, ci sono sempre novità e quindi spero non sia troppo una pubblicità ma più un modo per condividere lo sviluppo e quello che è disponibile online. Parliamo di HDRi, c'è una libreria di texture integrata in Blender con un add-on con il quale è possibile navigare online, connettersi e scaricare texture, scaricare HDRi e averle direttamente all'interno di Blender. Bene, questo è il piano, il prossimo video parlerà di Blender 2.8 e sarà una mini revisione di quello che è successo finora con il progetto, quindi da dove viene, qual è lo scopo, quale sarà la compatibilità con il Blender che c'è al momento, qual è la visione per il futuro, chi è coinvolto, un sacco di cose. Se avete domande, se pensate che mi sono dimenticato qualcosa, fatemi sapere qua nei commenti e ci vediamo, ciao!